Comincia sotto una buona stella la stagione della Triestina. Cavese è eliminata tra gli applausi dei suoi tifosi. Il 3-1 porta la doppia firma del bomber Pablo Granoce e di rapina è l'etapin che dopo appena 8 minuti sblocca il punteggio al termine di un'azione spettacolare. Passano ancora 8 minuti e Procaccio si procura un rigore cercato ma netto. Granoce insacca per la seconda volta. Poco prima dell'intervallo i campani rialzano la testa. Tiro raso terra di Sainz Masa dal limite dell'area. Offredi respinge maldestramente e sulla palla si fionda il Wasni che la mette dentro con un'acrobazia alla Ibrahimović. Nel secondo tempo la Triestina controlla senza farsi prendere da troppe ansie. Granoce ancora protagonista al 21esimo con un tacco ravvicinato tutto inutile e rete annullata per un fuorigioco che pare esserci. L'attaccante si conferma in gran forma quando al 42esimo si inserisce in area piccola e mette nel mezzo un pallone che non vuole sapere di uscirne. Nel batti e ribatti il più lesto è Ferretti. Sua l'ultima marcatura della partita. Per la Triestina il prossimo impegno di Coppa sarà in Umbria. Domenica sfida al Perugia. Un ulteriore test per una squadra tra le favorite per la promozione diretta in Serie B. Mister Pavanel sembra crederci. Noi volevamo passare il turno perché non ci eravamo riusciti l'anno scorso e comunque è un passo in più, un miglioramento. Io ho detto ai ragazzi noi dobbiamo cercare di pensare così, di migliorarci in quel senso. Se abbiamo fatto 60 gol dobbiamo tentare di farne di più. Se abbiamo fatto 68 punti dobbiamo cercare di farne di più. Se abbiamo subito 8 di gol dobbiamo cercare di subirne di meno. Grazie. Grazie. Grazie.